Ciao ragazzi, questo è un video speciale che abbiamo voluto inserire noi nel canale perché abbiamo fatto un primo video dove ci presentavamo, dicevamo che eravamo kinesiologi ok, ma non abbiamo spiegato il perché abbiamo voluto aprire questo canale un amore spropositato per lo sport, qualcosa di... sì c'è tutto questo, è vero, però fondamentalmente era per parlare sì per parlare in maniera tranquilla di che cos'è lo sport, farlo una cosa molto divulgativa farvi conoscere i pro e contro di uno sport fatto bene e fatto male, infatti il nome in sport viene appunto da questo c'è nel senso il voler far vedere che cosa c'è dentro lo sport, proprio c'è nell'attività sportiva vera e propria vorremmo portarvi tante rubriche anche dedicate ad altri tipi di sport, anche a livello psicologico di stato appunto psicologico e per adesso ci va bene così, c'è nel senso stiamo cercando di migliorarci ogni giorno io spero che veramente voi possiate contribuire anche al nostro... al nostro migliorarci, no? perché... quindi ragazzi commentatevi i video, diteci che cosa vi piace, che cosa non vi è piaciuto le critiche aiutano a crescere assolutamente sì, assolutamente sì e soprattutto contattateci anche sui nostri social noi abbiamo pagine facebook, abbiamo pagine instagram seguiteci là se avete delle domande o comunque delle cose che vorrete approfondire, no? Giuseppe, Gianluca, parlate di questo perché si conosce ben poco noi saremmo ben lieti di portarvi appunto, di poter approfondire con voi questo tipo di... appunto le vostre richieste, no? questo... tipo i jukebox sì tipo i jukebox, lanciamo la monetina per questo ragazzi, noi abbiamo voluto fare questo piccolo video così, molto breve semplicemente per spiegarvi, ecco, in maniera molto minimale perché poi comunque c'è anche dell'altro dietro, no? perché noi abbiamo studiato e quindi vorremmo portare, ecco qua proprio, non so come dire, proprio portare il nostro amore verso quello che abbiamo studiato e verso quello che facciamo per poter... per combattere un po' l'ignoranza un po' qualche pregiudizio di troppo e nel miglior modo possibile tranquillamente in maniera molto semplice pacata pacata tranquillamente perché lo sport ragazzi è bello ma lo sport deve essere saputo fare e non vogliamo entrare altrimenti diventa troppo... diventa qualcosa di anche nocivo e non entriamo, giustamente come diceva lui nei campi altrui tipo che ne so, nei campi di fisioterapia, di medicina noi non ci vogliamo entrare noi stiamo lontani perché quelli sono professionisti nel loro campo, noi siamo professionisti nel nostro campo e quindi vediamo l'orto nostro, diciamo daremo delle notizie minime come è stato fatto ma minime c'è nel senso niente di... di specifico di specifico ok? il video finisce qua io spero che anche questi tipi di video vi possano piacere vi possano interessare perché comunque è una conoscenza vostra nei nostri confronti e io spero che comunque possiamo avere un feedback appunto sulle nostre pagine social vi auguro un buon allenamento da InSport ciao!